Miau, miau, miau! 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 D'accordo, ciurma! Vediamo cosa c'è oggi nella nostra cassetta postale Miau, Miau! Oh! Piratesco! Visto? Guardate, ha la benda sull'occhio e la bandana. Vediamo cosa c'è dentro. Wow! È una bottiglia. C'è qualcosa dentro. Vediamo che cos'è. Sì. Forse è un messaggio? È una mappa del tesoro. Se seguiamo questa mappa passando per tutte le isole, arriveremo alla X. La X indica il posto dove è sepolto il tesoro. Una caccia al tesoro nella casa delle bambole. Tutti a bordo. D'accordo, lupi di mare. Vediamo dove inizia la caccia al tesoro. Iniziamo dalla prima isola. C'è un'impronta sopra. Quest'impronta di chi è? Quale gatto ha quest'impronta? Sì, DJ Katnip. Prima fermata, l'isola della musica. D'accordo, ciurma. È ora di diventare piccola. Un pizzico a sinistra e poi una a destra. Con Pandy Panda la festa è vostra! Che ci fate ancora là? Dai, entrate! Benvenuti nella mia casa delle bambole. Siete pronti a scovare un bel tesoro? Ottimo! Ma prima dobbiamo trovare insieme il pirata Pandy. Cerchiamolo con il cannocchiale. Quando vedete Pandy, dite... Avvistato! Avvistato! Attacco a braccio da pirata! Wow!